Buongiorno e bentrovati con Mattino 6, pronti per andare a sfogliare i quotidiani di quest'oggi, sabato 3 giugno, un fine settimana che vedremo il giorno dopo la festa della Repubblica, ma soprattutto vedremo come i quotidiani regionali e nazionali affrontano le principali tematiche della giornata odierna. Partiremo ovviamente con i quotidiani di casa nostra per poi fare un giro su quelli che sono i fogli nazionali. Allora cominciamo subito partendo ovviamente dal centro, nelle sue quattro edizioni. Ovviamente cominciamo con l'edizione di Pescara, con le prime pagine. Ovviamente il titolo principale è Notte di scontri, città sotto assedio. Il problema di Montesilvano dove dilaga la protesta dei senegalesi dopo il blitz in via Ariosto. Ci sono stati due arresti, vi abbiamo riferito ieri nel corso delle nostre edizioni del telegiornale. Di spalla a Pescara parcheggi per l'estate, pronti 1500 posti di auto in più. Sempre di lato, nel inchieti Romandini, trasferito il giudice della sentenza di Bussi. Sempre a Pescara si indaga sulle ricette per il doping. La fotonotizia, 5.000 appartamenti da abbattere, ci spostiamo all'Aquila, un miliardo di spreco. Viaggio nelle rovine delle New Town, volute da Berlusconi e pagate dagli italiani. Ma come vedete, insomma, i risultati sono quelli riassunti nelle fotografie. A Pescara, alloggio a fuoco in Via Sacco. Nella Palazzina Nuova trovati materassi vecchi e siring. E poi nel box, un richiamo allo sport con i campionati di calcio. Oramai in vacanza, l'attenzione si sposta sul calcio a 5 e sulla finale del Pescara calcio a 5. Dopo la rissa, il Pescara chiede delle pene esemplari. Ovviamente noi vi faremo anche vedere quale è la reazione sul sito ufficiale. C'è anche una comunicazione ufficiale del sodalizio bianco-azzurro. Ci spostiamo sulla prima pagina, sempre del centro, ma sull'edizione della provincia di Teramo. Inchiesta tangente a Giulianova, la rivelazione IPM di un imprenditore arrestato che dice pagai per stare al tavolo degli affari. Di spalla, in Via Cadorna, a Teramo, case al posto della vecchia caserma dei pompieri, l'ex caserma dei vigili del fuoco, raffigurata in foto. E poi a Pineto in migliaia per la biciclettata adriatica che ci sarà oggi. Non paga gli alimenti, questa è la sentenza del tribunale di Teramo, assolto. Con la crisi non ha più soldi e il giudice gli dà ragione. Era finito a processo per non aver versato l'assegno di mantenimento, leggiamo, all'ex moglie e alla figlia minorenne, ma il giudice, Carla Pazzini, ha riconosciuto che l'imputato, un piccolo artigiano terramano, si trova in difficoltà economiche a causa della crisi e lo ha assolto perché per la tenuità del fatto. Nel calcio ovviamente qui passiamo alla questione Teramo che sta definendo il direttore sportivo, ma poi c'è grande curiosità anche per quanto riguarda l'allenatore. Spunta allora Maggi nella corsa alla panchina del Teramo. Maggi che quest'anno ha allenato il Gubbio sempre nel girone B di Lega Pro. Dalla prima pagina di Teramo ci spostiamo in quella di Chieti, Lanciano e Vasto. Ovviamente in questo caso la notizia del giudice Romandini prende la prima parte, la parte centrale della pagina. Romandini a Roma, ok dal Consiglio Superiore della Magistratura. Trasferito il giudice della sentenza Bussi resta però sotto procedimento disciplinare. Altra notizia che avevamo dato ieri nel corso del telegiornale, una notizia davvero triste, è rubata l'auto di Jessica Tinari. La ragazza va stesa e morta a Rigopiano insieme al ragazzo Marco Tanda che vedete nella foto. Il papà di Jessica fa un appello a chi ha rubato questa macchina, una lancia Y-Ridate. Ce l'ha lui e la moglie, hanno detto, è un ricordo di nostra figlia. Sempre a basso avvistate quattro balenotere mentre ad Atessa c'è un uomo che ha travolto una moto e scappa e viene denunciato. In basso contro di me minacce continue parla il balneatore che ha subito il quinto attentato in cinque anni. A Lanciano affollano il santuario ma la città resta deserta. E poi chiudiamo con le quattro province andando nella provincia dell'Aquila ovviamente l'Aquila Avezzano e Sulmona e qui ovviamente il progetto case lo sperpero miliardario hanno l'apertura clamoroso annuncio del sindaco Cialente dovranno essere tutte smantellate. Peraltro l'Aquila che si prepara alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e ovviamente anche per l'elezione del sindaco inchiesta all'Aquila lavori non pagati polizia sequestra 900 mila euro e nella foto la storica sede del rettorato danneggiata dal sisma che è al centro del caso scendiamo a Sulmona Amarelli pronti 60 contratti a termine e in basso una notizia che riguarda la sanità o se volete la mala sanità ad Avezzano prende l'epatite colpa dell'ASL il tribunale condanna l'azienda sanitaria a risarcire 100 mila euro perché la vittima è rimasta contagiata dal virus dell'epatite durante la dialisi all'ospedale di Avezzano a causa di macchinari pensate non sterilizzati l'Aquila e il Mammut a fine estate disponibile ai visitatori chiudiamo con le prime pagine del centro ci spostiamo sulla prima pagina Abruzzo del messaggero anche qui ovviamente la parte principale è sulla questione Montesilvano ghetto etnico nuovo assalto il prefetto a Montesilvano spiega il giro di vite in via Ariosto intollerabili illegalità ma gli immigrati non si arrendono tentano il blitz negli edifici murati e due finiscono in carcere nella parte alta a Chieti va a Roma il giudice delle pressioni nel processo dei veleni di Bussia Giulianova mamma dorme in auto con il figlio di 4 anni e dice dateci un tetto e poi calcio a 5 finale playoff finita in rissa esplode la rabbia del Pescara continuiamo a leggere per a centropagina cassiera del supermercato a Celano rapinata con una pistola alla tempia due banditi in azione lei racconta le gambe mi tremavano per la paura e all'Aquila case evacuate perché ci sono segnali di cedimento in basso a Giulianova 60 dai PM per le tangenti e poi di spalla la mobilitazione Gran Sasso una marcia in difesa dell'acqua andiamo sulla prima pagina della città quotidiano della provincia di Teramo flocco shock lascio Teramo lo stilista annuncia il trasferimento dell'atelier perché si dice deluso da una città dove non è possibile fare impresa la foto notizia e poi andiamo sulla parte alta della pagina niente di irregolare archiviata l'inchiesta su Contrada a Rivacciolo c'è l'editoriale del direttore Alessandro Misson nell'intervento di Raffaele Falone che la cui ditta è stata il caso al centro del quale c'era la sua ditta è stata appunto archiviata andiamo nella parte alta Teramo al convegno sull'ospedale unico Gigi Ponziani corteggiato per una candidatura civica e a Teramo Bartolini Canzio e guerra tra cognati sulla Movida a Roseto nella parte bassa il prossimo anno ci saranno carte prepagate al posto dei ticket per la mensa questo per quanto riguarda i quotidiani regionali adesso noi facciamo un salto anche su quelli che sono i quotidiani nazionali per vedere come affrontano i temi di questa giornata partiamo ovviamente con la Repubblica in primo piano il mondo contro Trump in alto Macron scienziati USA venite qui dopo lo strappo del presidente degli Stati Uniti sull'accordo sul clima Trump isolato freddo anche Putin nella Casa Bianca niente di cui scusarsi al centro si parla della questione lavoro soprattutto in Italia e nel mezzogiorno giovani operai e in crescita al sud ecco i nuovi elettori dei 5 stelle il sondaggio bocciata l'immigrazione raggi preferita all'appendino voto Grillo blinda il patto soprattutto sulla legge elettorale con Partito Democratico e Forza Italia l'intervista alla Boldrini il Parlamento non deluda i cittadini da approvare subito le riforme per i diritti dalla Repubblica ci spostiamo sul messaggero stavolta però l'edizione nazionale l'apertura riguarda Grillo che striglia i suoi nel Movimento 5 Stelle il patto resta il leader del Movimento 5 Stelle frena i dissidenti il sistema elettorale tedesco è quello scelto dai nostri iscritti tensioni sulle candidature multiple e sui capi lista bloccati e vacilla il fronte del voto subito la festa della Repubblica ovviamente sfilano i sindaci del sisma Mattarella ci guidano i valori del 46 poi un richiamo ovviamente alla questione clima gli USA sempre più soli Unione Europea e Cina dicono però non si torna indietro critiche alla scelta di Donald Trump anche da Putin e dal Vaticano ma Trump ribadisce una scelta coraggiosa all'Italia interessa agli americani di Delta passo indietro di Fly Emirates e della YAL altri 5-6 gruppi si sono fatti avanti andiamo sul tempo che si occupa della questione soprattutto della magistratura ecco il caporalato dei PM ci costa 150 milioni l'anno lo scandalo dei magistrati onorari che lavorano al posto dei sostituti senza diritti senza ferie senza orari per di più sottopagati e inoltre rischiano anche la vita lustra scarpe per un giorno inventarsi il lavoro ai tempi della crisi un cronista del tempo si finge shusha per un giorno di spalla la politica con il richiamo sulla questione legge elettorale e situazioni interne al Movimento 5 Stelle Grillo costretto a strigliare i suoi uno valeva uno i VIP a 5 Stelle vogliono restare al centro in basso arrestato da Woodcock e assolto parla l'ex senatore di essere Rocco Loreto dopo 16 anni ecco la giustizia e poi ovviamente c'è un richiamo alla riforma elettorale la mappa dei nuovi collegi ovviamente il tempo si occupa principalmente della questione Roma e del Lazio ecco dunque come voterà il Lazio Bustepaga 14esimo a luglio e gli ex statali sorridono la stampa quotidiano di Torino Gentiloni il presidente del consiglio sul clima dice rilanciamo l'Europa intese con l'Africa sindaci USA contro la casa bianca ma le borse festeggiano la scelta del presidente Trump e c'è anche un articolo di opinione di la nota dell'ex del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano dice occidente alla prova di Donald Trump Barcellona i turisti meglio i rifugiati nelle città spagnole in base di laga la protesta contro i visitatori stranieri e poi in basso manovra Bruxelles pronta allo scontro verso una legge di bilancio da 15 miliardi un tesoretto per tagliare le tasse parla il commissario Moscovici non temo lo stop dell'Ecofin e il voto anticipato non sarebbe un problema il fatto quotidiano ovviamente l'apertura dedicata alla questione Movimento 5 Stelle che dicono no ai pluricandidati ma i nominati sono molto peggio tedesco all'italiana sistema elettorale tedesco ma ovviamente è reinterpretato come spesso accade in Italia con le concezioni di casa nostra Grillo blinda l'accordo vale quello che ha votato il blog e poi ci sono le varie opinioni di Maurizio Viroli fuori in o dall'inciucio RMB Renzi e Berlusconi Felice Besostri il testo è incostituzionale e poi l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari anche Grillo dice vuole degli yes men a destra Parla Cicchitto Gentiloni era nella culla e già Matteo voleva ammazzarlo in basso la questione clima economia scandali pure Disney molla Trump tutti contro Donald in Basilicata Eni nella falda c'è il benzene 2000 volte più alto dei limiti i dati del colosso sulle fuoriuscite dei serbatoi dell'impianto di Vigiano l'unità che apre con una storia che riguarda da vicino il proprio quotidiano così si calpesta una storia nel giorno della festa della Repubblica che celebra il lavoro l'editore annuncia la sospensione delle pubblicazioni mesi di ricatti e vessazioni la redazione in sciopero con mennesimo atto di difesa e dignità e c'è il silenzio del partito democratico il mattino quotidiano di Napoli il mondo sul clima il mondo contro Trump l'Europa la Cina il Vaticano e anche Putin un disastro stracciare l'accordo Bruxelles e Pechino da Parigi non si torna indietro ma salta l'intesa sugli scambi commerciali a centropagina i costi della rivoluzione verde pesano di più sui paesi del sud le interviste Grimaldi io costruirò le prime navi ad impatto zero lo scenario perché la Casa Bianca tira dritto editoriale di Mario Del Pero voto Grillo blinda il patto ipotesi urne ad ottobre leader del Movimento 5 Stelle il sistema tedesco non si discute più e poi Capri travolta dal turismo mordi e fuggi l'isola scoppia scriviamo al governo ipotesi addirittura di un numero chiuso e poi in basso iniziamo anche a proiettarci sulla questione calcio che avrà questa sera il gran finale con la partita la finale di Champions League a Cardiff tra Juve e Real Madrid la finale che capovolge i tifosi mezza Italia e mezza Spagna stasera sosterranno il team straniero e immaginiamo soprattutto in quel di Napoli libero tutti gli immigrati diventano italiani paese arrotoli il Partito Democratico pensa ai profughi il governo ormai ha perso la testa sfrutta la festa del 2 giugno per imporre la cittadinanza agli extracomunitari se questo è il futuro conviene scappare e poi di spalla l'opinione di Vittorio Feltri i cavalieri del lavoro che però non c'è a centropagina il sondaggio il movimento animalista tira in politica le bestie vanno forte e poi sempre di spalla terzultimi in Europa il Job Act ha frenato l'occupazione tante tasse spese male ma che ripresa 5 mesi di fatto regalati al fisco il manifesto Parigi o cara tutto il mondo contro Trump in difesa del trattato sul clima centinaia di monumenti si illuminano simbolicamente di verde al summit di Bruxelles patto Cina Unione Europea COP21 non si tocca andiamo avanti il Vaticano scelta usa terribile per l'umanità e poi si torna sulla questione legge elettorale Grillo blinda la svolta tedesca il gazzettino il quotidiano del nord est consoli ecco la mia verità ho commesso errori ma le cause di un simile disastro sono altrove prove o dolore immenso per i soci parla l'ex amministratore delegato di Veneto Banca per la prima volta dopo l'inizio dell'inchiesta sul crack Europa Cina contro Trump clima non si torna indietro sta per iniziare l'estate in maniera quasi ufficiale tra una ventina di giorni ci siamo spiagge l'invasione dei tedeschi Lignano turisti maleducati sono espulsi la verità questi hanno fatto la festa alla Repubblica classe dirigente allo sbando Europa economia e migrazione 2 giugno disparate anti italiane da chi in teoria dovrebbe aiutarci tra 8 giorni il centrodestra può vincere perché tra 8 giorni si vota per le amministrative e sulle amministrative però scende il silenzio la migliore arma antinciuccio è la vittoria della coalizione moderata nei comuni al voto ed ecco quali sono il dubbio i PM chiedono garantismo ma soltanto per loro riabilitazione per chi ha subito un giudizio negativo lo 0,3% del totale mezzo secolo fa iniziava la guerra dei sei giorni e il mondo scoprì la forza militare di Israele il tirreno no ai treni della guerra presidio dei pacifisti davanti alla base di Camp Darby in alto benvenuti a Capraia la nuova Atlantide dell'energia rinnovabile in spalla Grillo blinda l'accordo e doma la base la gazzetta del mezzogiorno Grillo blinda il patto ferma le proteste all'interno del Movimento 5 Stelle il tedesco il sistema elettorale tedesco di fatto proporzionale approvato dagli iscritti gli orlandiani dicono no alle pluricandidature il ministro Mareele Damboschi invece si dice fiduciosa l'opinione di un giornalista televisivo come Bruno Vespa la soluzione più comoda per i tre grandi partiti sul clima invece nasce l'asse Cina-India Unione Europea e il presidente Donald Trump resta da solo il triplete è possibile la Juventus sfida il Real Madrid questa sera a Cardiff 20.000 tifosi bianconeri avvenire grande fame d'Africa 25 milioni a rischio per la carestia nel Sahel pochi gli aiuti e Boko Haram aggrava la crisi arriva un no mondiale al cattivo clima di Donald Trump questo è sempre sulla questione dell'accordo stracciato dal presidente americano proprio sul clima sulle emissioni il secolo decimo nono infine chiudiamo con le testate nazionali con quotidiano genovese voto e regole Grillo blinda gli accordi leader del movimento 5 stelle contro i dissidi interni l'Unione Europea verso lo scontro sulla manovra e poi la fotonotizia 5 terre le guide vigili spezzano l'assedio questo per quanto riguarda i giornali nazionali adesso noi facciamo un salto anche visto che abbiamo parlato del finale di Champions League che è il tema principale dei quotidiani nazionali ma sportivi cominciamo con la gazzetta dello sport Juve può ribaltarli Champions abbiamo pesato le due finaliste vedete la Juve schierata e capovolta la formazione del Real Madrid che questa sera contenderà i bianconeri di Massimiliano Allegri la massima competizione europea per club ore 20.45 a Cardiff Ronaldo e Higuain alle radici del gol gioca Kakà ho affetto per Buffon ma tifo Real Madrid ovviamente lui è un ex per quanto riguarda invece le altre squadre italiane Mourinho alleatore del Manchester United in alto tutto su Ivan Perisic pronti 52 milioni per l'Inter per strappare l'esterno d'attacco alla formazione nera-azzurra e portarlo all'Old Trafford questione Milan invece il futuro di Gigio Donnarumma l'eventuale rinnovo Milan che offerta a Donnarumma 4 milioni l'anno ma l'accordo per il momento non è ancora stato trovato futuro azzurro Ventura apre a Balotelli e l'Italia Under 20 sogna nel Mondiale in basso Valentino velocissimo anche a guarire e al Mugello correrà perché in questo fine settimana si corre anche nella MotoGP e ci sarà il Gran Premio proprio in casa nostra al Mugello dalla Gazzetta dello Sport ci spostiamo sul Corriere dello Sport che da qualche giorno ha cambiato layout grafico Champions finale Juve Real ore 20 e 45 sgonfiateli i bianconeri all'assalto dei Galacticos allegri dovremo essere diabolici ha detto il tecnico bianconero marea di tifosi a Cardiff Lippi dice stavolta è la volta buona e ovviamente lo stesso spazio anche su Tutto Sport che dedica sempre parecchia parte del proprio giornale alle questioni di Juventus e Torino mutua quello che è stato l'hashtag di tutto l'anno dei giocatori e dei tifosi della Juventus fino alla fine allora fino alla fine anche il titolo di oggi di Tutto Sport che mette al centro la Champions League e poi i due grandi contendenti di Bala a sinistra e Cristiano Ronaldo a destra ma le varie sfide Higuain contro Ronaldo Allegri contro Zidane Benzema contro Dani Alves Buffon contro Marsella insomma tutte le sfide Juve a un passo dalla leggenda dopo Scudetto e Coppa Italia può conquistare la Champions contro i Blancos detentori che cercano il dodicesimo titolo europeo giocheranno i titolarissimi Allegri saremo diabolici Zidane col dilemma Bale Isco anche se Isco sembra il favorito questo per quanto riguarda le prime pagine noi siamo in chiusura della prima parte vediamo il meteo previsto per oggi andiamo in pubblicità e poi nella seconda parte entreremo dentro i quotidiani locali a tra poco eccoci rientrati seconda parte di mattino 6 nella prima parte abbiamo mostrato le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali adesso ovviamente entriamo dentro i giornali locali per vedere quali sono le notizie che ci propongono i quotidiani e che riguardano ovviamente la nostra regione partiamo ovviamente con il centro che ha dato molto spazio allo sperpero che definisce miliardario viaggio nello spreco del progetto case tra pilastri marci e loggi abbandonati un patrimonio che è da abbattere e qui ci sono varie fotografie che raccontano un po' il degrado e l'incuria con cui sono state tenute queste abitazioni che fanno parte del progetto case anche con erbace con insomma veramente tantissimo disordine e il sindaco dell'Aquila Cialente annuncia vanno svantellate tutte il sindaco del terremoto io responsabile se compro un'auto non la smonto per vedere se va bene così il primo cittadino dell'Aquila sempre il primo piano ma andiamo sulla questione nazionale rimanendo sempre sul centro Grillo blinda l'intesa Correzzi insomma ne parlano quasi tutti i quotidiani nazionali stop al dissenso il Movimento 5 Stelle dice il leader rispetti quello che è il voto online Maria Elena Boschi è fiduciosa ma la sinistra del Partito Democratico l'ala a sinistra del Partito Democratico quella di fatto fuoriuscita va verso il no lo strano abruzzo che sarà disegnato dalla riforma i collegi rimescolano le province e fanno arrabbiare i deputati che annunciano dunque una battaglia a colpi di emendamenti il 2 giugno di Mattarella l'Italia deve essere unita e solidale la sfilata ai fori imperiali aperta da 400 sindaci molti dei comuni del terremoto sul palco Gentiloni e moltissimi ministri Salvini in polemico sfilata dice dell'ipocrisia pace solidarietà unità il capo dello Stato richiama il 46 e l'Italia dei padri fondatori lavoriamo per le generazioni future future strappo sul clima Trump resta solo contro tutti Unione Europea e Cina non si torna indietro dall'accordo di Parigi ma le critiche di Putin ma la Casa Bianca insiste anche l'America si ribella allo stop la fronda di stati e città New York California Washington avanti lo stesso e poi andiamo in Gran Bretagna che si appresta al voto e Corbyn vede il sorpasso su Teresa May il leader laborista promette di creare un milione di buoni posti di lavoro nuovi guai per i toris e come vedete nei sondaggi che si riferiscono allo scorso 31 maggio l'ultima indagine di YouGov i sondaggi danno i conservatori al 42% ma i laboristi che per il momento sono all'opposizione sono al 39% ed ecco perché Jeremy Corbyn il leader del partito laborista crede nel sorpasso attualità in como Blue Whale un 17enne sui binari è pronto a suicidarsi un passante ha dato l'allarme a tagli su tutto il corpo lui nega ma la procura indaga e basta con l'emulazione che in questi casi probabilmente è un forse uno dei fattori più pericolosi in basso tweet dell'obolo di San Pietro con foto del Monsignore Gay giallo in Vaticano e poi in dranghet ha preso dopo 23 anni il boss Giorgi era tra i 5 latitanti più pericolosi riconosciuto da un baciamano e allora adesso arriviamo in Abruzzo e si l'apertura è dedicato al primo weekend con il pienone sulle spiagge ma soprattutto perché c'è gran caldo e tanti eventi e allora trionfa la voglia di mare da Tortoreto a Tortona confermate le previsioni ottimistiche della regione ma per l'estate ci sono molti dubbi e le stime sulle presenze sono in ribasso Andrea Montecchia occorre destagionalizzare il settore e puntare ad esempio sulle manifestazioni sportive a livello nazionale Marco Di Carlo la provincia di Teramo non viene promossa in maniera adeguata e gli operatori con i mezzi a disposizione fanno miracoli queste sono due opinioni quattordicesima ai pensionati il boom dei beneficiari Travet il presidente dell'Inps Boeri l'estensione coinvolge ora 125.000 ex statali il 1.500% in più impennata dagli attuali 8.000 grazie all'innovazione introdotta dall'ultima legge di bilancio andiamo a pescare adesso parcheggi per il mare strada parco e riviera portano 1.500 posti auto in più per l'estate pronto al piano del comune per la sosta dal 17 giugno quindi tra due settimane tornano i veicoli sul tracciato della filovia ma solo nel fine settimana per il lungomare sud previsti un nuovo posteggio e bus e navetta che siano gratis riviera sud sport e giochi per conquistare i clienti balneatori raccontano le nuove attività le idee e i progetti per la stagione qui da noi l'acqua dicono è pulita ma serve più sabbia per ripristinare il litorale che è stato eroso cronaca a Pescara doping ora si indaga sulle ricette caccia i fornitori dei farmaci che sono stati sequestrati a un culturista sorpreso con 600 compresse e 200 fiale anabolizzanti a San Silvestro schiacciato tra la moto zappa e l'albero 86 anni ferito finisce in ospedale via Sacco sempre a Pescara a fuoco una palazzina nuova le fiamme al primo piano diventato rifugio di disperati e di tossicodipendenti parliamo anche della festa della Repubblica celebrata ieri in piazza le medaglie al merito riconoscimenti aggallerati di Marco e di Giosaffatte festa dei popoli in piazza tra musica e laboratori domani in centro a Pescara l'appuntamento dell'Arcidiocesi sull'immigrazione previsti una preghiera interreligiosa e il concerto della notte della Taranta a Fiorillo portiere della Pescara le 100 birre del miglior bianco-azzurro anche se quest'anno insomma purtroppo per il Pescara di miglior bianco-azzurro si può parlare solo in senso molto molto purtroppo relativo la carica dei 2.500 atleti rifugiati in campo una vita normale in fuga dalla guerra i campionati dell'US Acli anche le squadre dei migranti l'entusiasmo dei bambini in gara e oggi e domani si replica e queste sono alcune foto andiamo avanti con Francavilla l'area metropolitana e la bassa Val Pescara stop a Blue Whale gioco mortale ecco come difendere i ragazzi a San Giovanni Teatino mercoledì primo incontro pubblico sollecitato dai genitori evidentemente preoccupati per questo che è un fenomeno in espansione un vademecum per gli adolescenti adescati su internet da una sfida che può indurre come sapete al suicidio ladri di frullatori al ristorante Aquarius a Francavilla assalto notturno nel locale di Viale Alcione titolare Pugliesi l'ultimo furto 15 anni fa sempre a Francavilla al via i lavori per la seconda oasi di Fido a Montesilvano c'è il richiamo in prima pagina è la notizia che insomma di apertura in molti quotidiani regionali questa notte di scontri di disperati in rivolta la città di Montesilvano sotto assedio altri due senegalesi sono stati arrestati dopo il blitz nel ghetto di via a Riosto in serata si legge nel box lungo mare chiuso al traffico per la protesta con canti e balli in strada gli interni nei lavandini sporchi pentole e posate queste sono alcune fotografie di quelle che sono dello scenario che si sono trovati di fronte una volta che sono stati effettuati gli sgomberi la confesercenti Tari aumenti immotivati si amplia la protesta per il rialzo delle bollette Tauci in assenza di chiarimenti faremo ricorso al Tar andiamo nella parte alta Val Pescara Penne Revestina e Popoli ex Sama lo studio un piano di rilancio per l'opificio di Scafa incontro in regione con il manager a Dario e le cop Coges ma per la cava di Popoli serve la valutazione ambientale sempre a Popoli in arrivo cinque infermieri per le ferie in ospedale rifiuti a Trifonte e multati gli inquinatori a Penne Polizia Municipale e Personale della Ecoalba li hanno individuati rovistando nel pattume ci spostiamo a Chieti adesso Romandini alla Corte d'Appello di Roma il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera a 118 trasferimenti nella seduta plenaria del 31 maggio il giudice Teatino lascia contento a metà in motivi della scelta felici per la sede non per l'accostamento al procedimento disciplinare ovviamente all'Aquila abbiamo detto ad Avezzano macchinari nel mirino prende le patite con la dialisi sarà risarcita il Tribunale impone alla ASL il pagamento di 100 mila euro nei confronti di una paziente infettata dal virus HCV schianto automoto coppia in ospedale successo a Luco De Marsi senza acqua Santa Croce non posso vivere nuovo appello della donna affetta da una rara patologia che teme il blocco della produzione all'Aquila lavori al rettorato sequestrati 900 mila euro nel mirino il pagamento da parte del comune ha una ditta fallita l'associata chiede i soldi andiamo in provincia di Teramo tangenti a Giulianova ho messo 35 mila euro per sedermi al tavolo l'intercettazione di uno dei fratelli scarafoni per i PM rivela il sistema illegale e poi in basso non paga gli alimenti assolto per la crisi il caso di un teramano finito a processo il giudice è un fatto tenue viste le sue condizioni economiche e poi c'è anche l'intervento di un avvocato matrimonialista che dice ma i figli devono comunque essere sempre tutelati quindi parzialmente in disaccordo evidentemente con la decisione del giudice andiamo sullo sport finale di Champions allegri diabolici e cattivi prendiamoci la Coppa la Juve all'assalto del Real Madrid per conquistare il trofeo che manca da 21 anni 1996 finale vinta in calcio di rigore contro l'Ajax arbitra il tedesco Felix Brick 41 anni avvocato tedesco per l'appunto una notte per scacciare l'incubo appunto delle finali perse dal 1973 al 2015 6 KO e due successi di cui uno macchiato dal sangue dello stadio Aizel nel 1998 ad Amsterdam proprio contro il Real Madrid un gol di Predrag Miatovic regala la Coppa al Real dopo 32 anni poi la lista di delle finali perdute dalla Juventus ci sono anche quelle vinte andiamo nel calcio di casa nostra Zeman col pescare in A nessun rischio di addio c'è un patto d'onore tra tecnico e società per andare avanti insieme ovviamente si parla del futuro della squadra che adesso dovrà pianificare quella che sarà la prossima stagione nella cadetteria dopo la retrocessione di quest'anno il Foggia va su uno di quelli che potrebbero essere gli obiettivi del Pescara ovvero Gans di proprietà della Juventus ma che ha giocato a Verona mentre il Torino vorrebbe l'esterno del Pescara Cristiano Biraghi ciclismo ciclismo e solidarietà GM Europovini pedalata di beneficenza per l'Abruzzo ne abbiamo parlato giovedì sera nel corso della trasmissione però questa è la fotografia che ritrae tra gli altri Ruggero Marzoli Gabriele Marchesani Stefano Giuliani Beach Volley World Tour a Mosca fuori Nicolai e Lupo sono stati recenti medaglia d'argento palla nuoto il lutto addio a decrescenzo ex posillipo storico rivale della Sisley Pescara e questo è un lutto che avviene a pochi giorni come leggete in apertura dalla scomparsa di Gabriele Pomiglio e dunque la palla nuoto italiana piange un altro grandissimo esponente di questo sport in Lega Pro il Teramo spunta Maggi per la panchina tra Palladini e Asta l'ex Gubbio è il nuovo candidato Epifani perde quota oltre a Polidori dal Pescara potrebbe arrivare anche Ventola sempre in casa Teramo sempre nell'ottica di una collaborazione Martinsicuro la squadra più giovane in eccellenza le statistiche della FIGC i Truentini in campo con un'età media di 22 anni e mezzo addirittura arti marziali alle competizioni di Sanda Andrea Garofalo sette medaglie per il club abruzzese calcio a 5 Pescara chiede giustizia insulti e botte così non va durante il terzo tempo Tobe della Luparenze colpisce Caputo e Bagarre il DS Matteo Iannascoli arbitraggio inadeguato lunedì le decisioni del giudice sportivo peraltro adesso il Pescara giocherà gara 2 gara 3 proprio in Veneto le avrà in trasferta e dovrà vincere una partita per cercare di riportare la serie in Abruzzo Fulvio Colini ora vediamo il referto dice si vede bene nel video chi è che scatena il casino ed è proprio Tobe il giocatore che vedete con la maglia numero 4 del Luparenze che colpisce Caputo il presidente Montemurro certi atteggiamenti offendono me e il movimento basket serie B purtroppo Camplin non ce la fa e si inchina la forza di Montegranaro 63 a 75 per la formazione marchigiana Farnesi out dunque marchigiani che vanno alla final four di Montecatini coach Piero Millina che dice al termine della stagione dei Biancorossi siamo andati comunque al di là di quelli che sono i nostri limiti vediamo rapidamente il referto i migliori in Campli 15 punti per Bottioni 12 per Onorio Petrazzuoli poi 9 punti per Nobredo e per Serafini 10 per Duranti per quanto concerne invece Montegranaro una vera e propria corazzata 18 punti di Rizzitiello e poi 14 per Dip e Broglia scherma 5 abruzzesi alla fase finale del trofeo Coni e poi in basso a Mosciano il potere del custom ciclismo la Gran Fondo Parco della Maiella la campionessa del Santellungo Fionamea la Tricap lo sport insegna la vita oggi dibattito in Piazza Domo il segreto è divertirsi gareggiando e nel pomeriggio ci sarà la Corsa di Miguel la Experience invece Rugby Giovanile fa man bassa a San Buceto noi ci spostiamo dal centro andiamo sulle colonne del messaggero Abruzzo ovviamente vi abbiamo fatto vedere la prima pagina con la questione Montesilvano e poi entriamo allora si parla di politica i sette collegi elettorali che spaventano i politici Chieti e L'Aquila bacini di consenso pieni sono divisi invece quelli di Pescara e Teramo la disomogeneità dei territori mina le possibilità di successo dei candidati 2 giugno marcia per ricordare la resistenza 50 km tra Valli e Vette a Pescara intollerabili illegalità e ghetti etnici il prefetto Francesco Provolo spiega il giro di vite su Via Riosto l'accoglienza è diversa dalla tolleranza di fenomeni criminali il focus sull'attualità interrompe la lettura del messaggio di Mattarella la prefettura accanto a sindaci e forze dell'ordine e vediamo un po' di cronaca in venti all'assalto delle case murate guerriglia nella notte arrestati in 2 l'integrazione possibile invece festa dei popoli con 17 nazionalità abbiamo visto prima a Pescara eroi della resistenza torniamo al 2 giugno e neo cavalieri l'elenco delle medaglie e delle onorificenze a Pescara contro i furti torna di moda il portiere aumentano la sicurezza e il pregio degli immobili dicono gli amministratori ma i costi spaventano molti proprietari a Montesilvano è stato addirittura bandito un concorso casa e stipendio sicuro hanno moltiplicato le candidature carabinieri in azione lavoro nero imprenditori denunciati due imprenditori sono stati denunciati per l'impiego di lavoratori non in regola con l'assunzione per violazione in materia di sicurezza sul lavoro un drone un drone made in abruzzo per gli studenti del bantonee i ragazzi del corso per geometri hanno usato il velivolo per un progetto di tutela ambientale andiamo all'aquila progetto case segnali di cedimento sovrapposizioni di parti di intonaco della piastra evacuata secondo gli esperti è un indizio di slittamento della struttura l'acqua che faceva marciere le travi non sarebbe piovana ma fuoriuscita dall'impianto idraulico del complesso edilizio a Bazzano droga arrestato mentre spaccia nei pressi della sala giochi torniamo sempre sulla questione ricostruzione all'aquila terreni gratis agli inquilini dei map potranno trasformarli in orti urbani la ricostruzione è sequestrati 900 mila euro alla steda per la questione del rettorato dell'ex rettorato dell'aquila la somma liquidata dal municipio era su un conto della curatela fallimentare appalti che sono nel mirino all'aquila palazzo carli porcinari durante i lavori spunta un nuovo tesoro torna alla luce una stanza affrescata impreziosita da un soffitto a cassettoni che risale al 500 gli studiosi dicono sono opere di valore Avezzano sul mona pistola alla tempia qui ci spostiamo a Celano rapina la cassiera due banditi in azione al supermercato della conad erano mascherati il bottino è di 25 mila euro il colpo effettuato appena prima dell'orario di chiusura ero terrorizzata racconta la cassiera le gambe mi tremavano per la paura a Castellisangro medaglia d'oro al maresciallo dell'arma dei carabinieri di Loreto a pacentro fonte romana strada bloccata dalla burocrazia a Sulmona rifiuti alla cogesa scoppia la polemica a Chieti cavalli e splendide modelle i protagonisti del 2 giugno il prefetto corona come Papa Giovanni portate la mia carezza ai vostri figli dall'arcivescovo un richiamo ai valori della dignità umana e della solidarietà e poi di spalla il giudice romandini trasferito a Roma alla corte d'appello l'attuale presidente del tribunale civile ha vinto un concorso strisce pedonali sparite o invisibili a Chieti attraversare la strada è un pericolo di Iorio del partito democratico città lasciata all'abbandono sia dal sindaco che dalla giunta Cala Lenta un via ve le spiegate tante iniziative fino a domani per promuovere lo straordinario patrimonio naturale deno gastronomico della costa Chietina e l'ideatore Cavallo puntiamo alla valorizzazione di questo mare per un turismo in grado di fornire occupazioni sì ma senza inquinare e poi la vicenda incredibile se vogliamo di Vasto rubata l'auto che fu di una delle vittime ovvero di Jessica Tinari e l'appello del papà finché venga restituita a Teramo movida tra luci e ombre stoppa e rave party nel centro storico dopo il successo di Pigro funziona la formula delle kermesse musicali ma la festa nel quartiere di Sant'Anna ha creato molti problemi alla collettività e lo stilista Flocco che dice lascio questa città anche con qualche polemica festa della Repubblica onorificenze a 15 concittadini mamma coraggio picchiata invece fa arrestare il figlio per droga inchiesta a Castrum sulle tangenti a Giulianova 60 persone in procura gli uffici dei due procuratori illuminati fino a mezzanotte tutti chiedono di poter essere sentiti sul caso Mastropietro scarico di Giacinto Giambuzzi il sindaco Mastromauro telefonò ma come politico e non dice per propri interessi personali a Giulianova dorme da un mese in auto con il figlio di 4 anni ha richiesto anche un tetto c'è anche Fiona May ad Atri alla corsa per Miguel in una giornata intensa di appuntamenti in spiaggia tornano in azione i Baywatch e qui siamo ad Alba Adriatica ovviamente adesso lo sport Dionisi attaccante del Frosinone il Pescara ci prova sarebbe l'obiettivo numero uno di Zemana ma per il momento la valutazione che ne dà la formazione ciocciara è troppo alta questo potrebbe far pensare ad un cambio di rotta per Coulibaly per il quale Milan e Atalanta sembrano avere sorpassato la Juventus di spalla il basket Montegranaro vince la finale ma Campli rimane comunque assolutamente da applausi in basso la Lega Pro con il Teramo per la panchina spuntano Maggi e Asta Campitelli rinnova la collaborazione con il Pescara in arrivo stavolta c'è il giovane Terzino sempre dal Pescara Ventola Calcio 5 dopo la rissa esplode la rabbia della Pescara attesa per le decisioni del giudice sportivo dopo il pugno di Tavor da Accaputo il DS Iannascoli arbitri inadeguati ma le immagini televisive parlano chiaro mercoledì la seconda gara sul parchè di Bassano l'Aquila Calcio Battistini avviato la conferma martedì sarà ufficiale l'ingresso in società dei nuovi imprenditori di cui si parla da tempo il Francavilla che si sta giocando l'accesso alla serie D Milizia dice Francavilla con calma sì che puoi farcela palla a volo un altro tassello per la SIECO Ortona volle a due arriva Menicali con questo abbiamo terminato il messaggero ci resta da guardare solo quello che propone oggi in prima pagina alla città quotidiano della provincia di Teramo vediamo cominciamo a sfogliare dall'interno la questione riguardante l'archiviazione dell'inchiesta su Contrada Rivacciolo eccola qua in due anni di indagini la magistratura non ha rilevato reati e irregolarità nel piano integrato di intervento delle ditte Falone San Marco a Colleparco il 20 maggio del 2015 anticipato da un battaggio su internet e facebook va in onda la trasmissione Poliz su Vera TV Abruzzo interamente dedicata al nuovo quartiere di Rivacciolo questi sono i reati ipotizzati della procura che poi è un'inchiesta che ha dato il via all'inchiesta ma inchiesta come detto archiviata Abruzzo Santoro riaccende le telecamere sul Rigopiano e risera su Rai 2 è andato in onda l'instant film c'è qualcuno con immagini inedite della tragedia e poi l'auto rubata ad una delle vittime dell'hotel Rigopiano che vi abbiamo raccontato flocco shock la brutta china costretto a lasciare Teramo lo stilista internazionale eccellenza cittadina annuncia amareggiato che sposterà il suo atelier di moda le difficoltà la crisi il terremoto l'emergenza e il degrado ma le tasse sono le stesse del 96 non c'è un incentivo da tempo riceviamo i nostri clienti a Mociano qui è difficile arrivare parcheggiare spostarsi e organizzare la logistica rischia l'espulsione per una carta bollata da 14 anni in Italia gli negano il permesso di soggiorno per una ricevuta il Tar accoglie il suo ricorso Gigi Ponziani corteggiato da rialza di Teramo il movimento di Cipolletti lo cerca per le elezioni intanto lo coinvolge nel dibattito sull'ospedale unico di Spalla provincia di Teramo Verna annuncia l'uscita dalla maggioranza ma così finisce per blindare il vice Nugnes lavori di sicurezza a casa Salvoni prima della demolizione il paradosso perché spendere soldi su un immobile e che nel progetto del teatro romano va abbattuto Sant'Anna rimaniamo sempre a Teramo polemica tra cognati sulla Movida Bartolini cavalca i residenti talebani del Sonno l'assessore Canzio si schiera con l'organizzatore Zecchini insomma una questione anche se vogliamo familiare via Cadorna degrado all'ex caserma dei pompieri Carboni di A.N. interroga la provincia sul progetto spostiamo in Val Vibrata scuola di restauro dell'arte sacra Ripoli di Corropoli il centro messo in piedi da Fondazione Tercas è comune e poi alcune notizie a Colonnella questa di cronaca automobilista in overdose finito fuori strada salvato dal 118 a Martinsicuro invece inaugurata la biblioteca con l'archivio storico Martinsicuro elezioni Martinsicuro che si prepara alle elezioni Tommolini batte sui nuovi posti di lavoro il candidato di Martins Rosa con Vagnoni un dovere la questione lavoro evidentemente per ogni amministratore inchieste in comune Luigi Ragni dello Spiaggia d'Oro è mio zio il consigliere comunale chiarisce lui non c'entra con la lottizzazione citata dalla dirigente intercettata l'inchiesta Castrum è scattata a martedì 23 maggio con l'arresto di 8 persone tra carcere e domiciliari da parte della Guardia di Finanza il sociale a Giulianova il comune cerca case per l'emergenza abitativa e vedete il vice sindaco nella foto Nausicaa Cameli anche con delega alle politiche sociali del comune ovviamente di Giulianova e allora proprio a Giulianova arrestiamo i mezzi di emergenza ricoverati da Costantini la protezione civile sfrattata dai portici ha trovato ospitalità in un'area dell'imprenditore Ivan Costantini che però si trova a Mosciano scuola maturità in cinese al Curie i pionieri del liceo linguistico andiamo a Roseto carte prepagate per sistemare la mensa l'assessore Tacchetti studia la soluzione per la distribuzione dei ticket e poi di spalla Cerrano Family Festival Roseto festeggia la bandiera blu all'open day biciclettata adriatica la repubblica dei pedalatori si è incontrata ancora a Pineto eventi il concerto di Sherrod il giocatore degli Sharks di Roseto chiude le iniziative di biciclettica weekend di appuntamenti legati allo sport per l'open day summer nelle terre del Cerrano cultura rinascono i miti dell'amore la camicia di Nesso i volti dell'Eros nello spettacolo di Ardini di Massimo Antonio e Lisciani e poi vediamo dopo Marianne Mirage arriva a Castelbasso Dulcamara il concerto nuovo singolo Metanoia la band grida aiuto nel video contro favoritismi e raccomandazioni e poi lo sport Teramo ecco quanto costa fare la rivoluzione prima degli acquisti bisogna rifondare l'organico intanto resta da fare i conti con i contratti firmati serie D parliamo del San Nicolò calcio settore giovanile San Nicolò secondo dietro la Iesina squadra bianca azzurra ha ottenuto 1530 punti dietro ai leoncelli marchigiani quota 1682 terza forza un'altra abruzzese il Pineto con 1015 punti e poi il volley la riviera protagonista della giovane pallavolo numerosi comuni della cosa Teramano ospiteranno le finali nazionali studentesche circa 700 le persone attese in Abruzzo Sportestv weekend con il beach tennis a Giulianova per il trofeo città di Giulianova e per il karate medaglia d'oro per Sandro Pavoni a Lanciano e infine l'evento oggi a controguerra la prima di pedoni e pedali due percorsi per l'escursione guidata il primo a piedi l'altro con la mountain bike sono le 9.03 noi vi ringraziamo per l'attenzione mattino 6 torna lunedì mattina puntuale alle ore 8 invece il telegiornale sarà con voi alle ore 14 per tutte le notizie della giornata arrivederci a